Si giocherà in anticipo Riccione Vasto Girardi in virtù del turno infrasettimanale previsto per mercoledì 1 novembre. Si tratta di uno dei quattro anticipi che apriranno così di fatto l'ottava giornata di campionato nel Giron F di Serie D. La sconfitta in casa col Notaresco, la quinta consecutiva per gli Altomolisani, ha portato con sé l'esonero di Alessio Bifini. Una decisione che era nell'area, era stato infatti dato una sorta di ultimatum domenica scorsa. Sarà di Simone Marmorini ora il compito di traghettare il gruppo ultimo in classifica cercando di ridare entusiasmo ad una squadra e a un ambiente che lo ha totalmente perso. Marmorini mi è sembrata la persona ideale, queste le parole di Patron Dilucente. È un allenatore preparato che avrà il compito di affrontare, capire e risolvere le problematiche di una rosa sicuramente giovane ma che possiede grandi potenzialità. Dunque c'è grande attesa per questo nuovo vasso Girardi, chiamato ad un repentino cambio di rotta. Non si escludono delle sorprese, circa l'11 titolare. Il neotecnico ha avuto qualche giorno a disposizione per lavorare con la squadra. Quella di domani sarà una sfida sulla carta alla portata. Il Riccione infatti è impelagato nella zona calda della classifica, sette punti frutto di due vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, le ultime due contro Avezzano e San Benedettese. Entrambe scenderanno sul rettangolo verde del comunale di Viale Arezzo con la voglia di conquistare l'intera posta in palio, punti fondamentali che permetterebbero alle due formazioni di macinare terreno e, cosa più importante, consentirebbero al vasso Girardi di riacquistare quella grinta e quella voglia di fare che forse nel tempo si sono un po' perse. In porta potrebbe indossare la casacca numero 1 Cerroni, difesa composta da Camara, Tocco, Visani e Ruggeri. Al centro del campo zuccherato c'è Cuzzi e Fontana, tridente d'attacco composto da Cesaroni, Jacullo e Salatino. Con fischio d'inizio alle 15, il Riccione e Vasto Girardi sarà diretta da Sebastian Petrov della sezione di Roma 1, assistenti Marco Crostella di Foligno e Giovanni Fiordi di Gubbio.